Eccoci con Mr. Seconi dopo la partita incredibile contro l'Alfamengo. Mr. Anzetto, che prova, che dimostrazione di reazione che avete avuto? Guarda, io sono contento perché è un periodo difficile per noi, abbiamo parecchi squalificati, infortunati, venivamo da due sconfitte consecutive, trovarci con un uomo in meno per 65 minuti avrebbe ucciso chiunque, e comunque sono contento perché è dimostrazione che comunque vada, la squadra c'è e siamo ancora vivi. Hai detto una cosa più giusta del mondo, cioè la dimostrazione è proprio che la squadra è viva, è viva e c'ha voglia di far bene, nonostante le difficoltà di oggi, essenze e uomo in meno. Nell'ultimo periodo cosa pensi che non ha funzionato e quest'oggi se avete ritrovato un po' quello che mancava? Guarda, nell'ultimo periodo credo sono venute una serie di dinamiche a noi sfavorevoli, abbiamo perso due partite in emergenza comunque di misura, un po' di sfortuna, però la cosa importante oggi era proprio questa, lo spirito non è mai mancato, probabilmente la situazione di difficoltà ci ha aiutato ancora di più, abbiamo dato il massimo. Possiamo dire che dopo oggi questa situazione di difficoltà l'abbiamo un po' superata o ancora aspettiamo? Vediamo perché dalla prossima settimana rientrano parecchi ragazzi e quindi spero di sì, almeno dal punto di vista numerico, poi vediamo settimana dopo settimana. Mi sono ancora bravissimi per oggi e un bocca al lupo per il continuo. Ciao, grazie.